Cambiamo argomento e soffermiamoci sui problemi della città di Sassari con un'indagine sul vuoto lasciato dalla caduta delle palme in Piazza d'Italia. Valeria Ganadu. Erano i primi mesi del 2019 e in Piazza Castello, con funi e camion, vengono portate via le palme, o meglio ciò che restava delle palme, flagellate dal punteruolo rosso. Delle belle palme, che da sempre avevano caratterizzato sia Piazza Castello che Piazza d'Italia, così come altre vie cittadine, rimaneva solo uno scheletro svuotato da un insetto arrivato dall'Asia. Alle prime avvisaglie gli esperti si erano mossi per cercare un rimedio e per salvare le piante, oggi quella battaglia, portata avanti su più fronti e con diversi tentativi, si può dire persa. Quello che dispiace è che al momento, per quanto al settore ambiente sia molto a cuore il verde cittadino, non sembrano esserci all'orizzonte programmi per restituire il verde a quegli spazi dove gli alberi non ci sono più. Sicuramente ci saranno degli studi da fare sul tipo di piante da mettere a dimora e sull'impatto che queste potrebbero avere e naturalmente sui costi che questo comporterebbe. Per ora, lo scenario di alcune zone della città è completamente cambiato.